L'Arezzo prosegue a stiscia di vittori battendo al comunale per 2-0 il Givi Borgo, allenato dall'ex giocatore di Empoli e Siena Massimo Maccarone e si conferma capolista. Di fronte ad oltre 1.900 tifosi, il mister indiani opta nell'undici iniziale per far tornare in campo dal primo minuto Capitano Settembrini e di schierare per la prima volta in stagione titolare Lorenzo Persichini, mentre si accomoda in panchina Lazzarini e Castiglia. La prima occasione del match capita sul desto di Gaddini dopo appena un minuto di gioco, ma la palla termina a lato di poco. Al tredicesimo Settembrini si libra bene vicino alla bandina di sinistra e lascia partire con il suo destro un cross che viene deviato dal braccio di Mukai, ma l'arbitro non concede il penalty. Poco dopo l'Arezzo trova il gol, al diciassettesimo Gaddini calcia una punizione di filata dentro l'area di rigore, Risaliti devia quel tanto che basta il pallone da farlo finire in porta, portando in vantaggio la squadra Maranto con la quinta rete stagionale fra campionato e Coppa. Il Cavallino continua a pressare gli avversari all'autocampo e al diciannovesimo Foglia sfiora il raddoppio su Asti di Gaddini a rifinire una bella azione corale della squadra. Il primo squillo del leg di Borgo arriva con il colpo di testa di Tigani, giocatore che aveva infiammato il prepartita ripostando sui social una foto dove esultava sotto la curva sud con la maia del Gavorrano. Su un pressing clamorosso dell'Arezzo che non lascia uscire gli avversari da metà campo, Bramante prova il tiro a giro al venticinquesimo, parato in tuffo da Antonini. A due minuti dalla chiusura dei primi 45 minuti di gioco, Bongioni si mette in proprio e colpisce il palo dopo una conclusione violentissima. Nella ripresa il ritmo degli Amaranto, quest'oggi maia gialla, non cambia, anche se lasciano un po' di campo in più agli avversari. Dopo appena dieci minuti, Bramante sfiora il raddoppio calciando appena lato da buona posizione. Un minuto dopo Persichini raccoglie un assist dalle retrovie e si infila in profondità fra il proprio marcatore e Antonini. Il portiere avversario stende il numero 9 dell'Arezzo dentro l'area per l'arbitro, il signor Tomasi. È rigore, dal dischetto Gaddini non sbaglia tirando di potenza sotto la traversa e portando il cavallino sul 2-0 per Gaddini, ottavo cento stagionale. Al diciottesimo del secondo tempo è sempre Persichini a muoversi bene dentro l'area di rigore, ma la conclusione piazzata termina alta sopra la traversa da buona posizione. Per gli ospiti è l'ex Zinia a divorarsi il gol che avrebbe riaperto la partita, tirando alto uno dei più facili tap-in a porta vuota e senza pressione da difesa dell'Arezzo. Botta risposta con Pattarello, cross dalla destra al bacio di Bramante per il numero 10 che impatta male di testa la sfera da posizione ottimale. A 6 minuti di al termine lo stesso Pattarello parte in dribbling solitario, evita l'intervento di un avversario ma nulla può sulla spinta di Videtta, che già ammonito si vede estrarre un rosso inevitabile. Sui sviluppi della punizione Bramante colpisce in pieno la traversa. Dopo 5 minuti di recupero l'abito decreta la fine dell'ostilità. Narezzo si prende la vittoria e rimane in testa il Gionè di Seredi con 50 punti, 2 di vantaggio della Pianese, uscita vincente dallo scontro con il Flaminia. Grazie.